E questi sono tutti cacciaviti, cacciaviti, questa è una sgorbietta, questa è cacciavite, questo è sempre cacciaviti, questi sono scapelli a legno, cacciaviti anche questo, questi sono scapelli a legno, i resti, questa è un altro cacciavite, questa è la chiave inglese, questa è la chiave inglese dei dati della botte? Ah non lo so, io la ripravo anche il mio papo ma fino a poco più, quando c'è sostituisce le chiave di quelle buone, capisci? Questo è un cacciavite che mi manca l'anico, questo è grosso, vedi, la ruiglia era maniata, quindi se no vi doveva essere ancora quasi così, questo è un quadrello, una limetta. Queste erano le forbici della laviglia, giusto? O no? Sì, potrebbero sì, tipo tronchese, no tronchese. Tipo le forbici della latta? Queste sono quelle tanoaglie che usavano il fabbro quando andavano a fiammare le vacche, e i bobi che mettevano ferro con il chiodo, poi piegavano e tagliavano con questa qui, perché ci volevano le lunghe, perché si doveva tagliare bene insomma.